Nei nove anni in cui ho lavorato durante l'amministrazione di Firetto abbiamo lavorato bene e abbiamo riscontrato una sensibilità enorme per quella fascia di persone che sono i più deboli, che sono i bambini, che non sanno difendersi e che non sanno chiedere. E quando chiedevamo noi docenti per i bambini gli interventi erano veloci, cosa che nel passato, io ho lavorato per circa 40 anni a Portempedocle, non si è mai riscontrato. Io come amministratore di condominio posso testimoniare realmente da diversi anni come diversi agrigentini acquistano e locano le case, proprio per la vivibilità che c'è a Portempedocle, la pulizia, il commercio, le attività, i ritrovi che ci sono alla sera, c'è un qualcosa che veramente al di fuori non c'è, quindi queste cose che si sentono sono veramente assurde e inconcepibili. Tra l'altro io sono agrigentina e spero che chiunque venga dopo di lui possa mantenere quello che ha fatto. Io lavoro in un negozio ben noto di Portempedocle e sinceramente noi abbiamo tanti clienti della provincia e anche oltre. E fino a qualche settimana fa, specialmente gli agrigentini, ci invidiavano questo sindaco perché veramente arrivano, principalmente io parlo della Via Roma perché il negozio si trova là, ed è un salotto, è diventato un salotto. Quindi sinceramente io sono qua perché mi sento anche un po' fesa di tutto quello che si è stato detto, sinceramente. Anzi, mi preoccupo un po' per il futuro. Speriamo che tutto questo che ha fatto il sindaco Firetto non sia perso, perché questa è la preoccupazione nostra. Io sono qui oggi perché intanto devo dire che sono mossa dall'indignazione, perché io sono indignata per le parole, per le dichiarazioni che ho sentito circolare in questi giorni nelle emittenti televisive locali sulla città di Portempedocle. Sono delle dichiarazioni che per me sono assolutamente false, false e mendaci e sono sicuramente strumentali. Ora, io sono una grigentina che dal 2006 vive a Portempedocle, si è trasvitta a Portempedocle. Io posso dire che vivo in una zona periferica di Portempedocle, ma la zona dove sto io è una zona, sì, è periferica, ma è curata, dotata di tutti i servizi, le strade sono buone, vi sono dei luoghi di svago per i bambini. Il sindaco Firetto ha restituito, per esempio, la villetta del Belvedere posta a piano lanterna alla città di Portempedocle, come tutte le altre villette di Portempedocle, ad esempio la villetta di Bella Vista, dove vengono addirittura anche bambini agrigentini a giocare e dove io porto sempre i miei figli. Grazie a tutti.